chissà città la testa realizzata e te stanno con piatto un po' pizza, pizza per lui si si fa un po' tantino dai a un teatro ma noi abbiamo più calcio qui non è pulita io sono siq sic la verità non lo parla troppa sic Sì, 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 è il mio nome d'arte, faccio il prestigio, faccio il prestigio, faccio il prestigio, faccio il fuori il prestigio di questo teatro. Quest'oggi, il mio segretario, il mio intanto, il padre, non è venuto, ha mancato l'appuntamento. Dove? Sono con il pespino. Che vuoi che hai passato? Da vicino a me, chi se si presenta la ragione, chi se si fa le facce, lo spettacolo è già cominciato con un minuto. Ma voi volete un po'. Oh dunque, io avrebbe bisogno di una persona che vorrei incazzare io da voi. Tu, il padre? Vero? Il padre? C'è il padre? C'è il padre? Ma non lo faccio voi! No! Te l'ho detto prima, io sono la tracciolera. Che io do la mia moglie e lei te lo faccio dal pubblico. Scegliete dal pubblico, pubblico pure mette l'attenzione e la sembratia, state d'accordo, state d'accordo che mi stanno rimanare, stanno messo tra, mette di rimanare. È una gara! È una gara! Poi sento, come voi scegli i tuoi favorituri a te? Perché non sei più tronco? Sì, sì, ho più tronco. Sì, potete poterlo mai se fosse truccato? È un sacco di nuovo, ti fai scendere, non? Perché non sei vero! Perché non sei vero! Perché non sei vero! Si può essere si rapi! Non 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 si rapi! Ma so che non si rapi! Perché non si rapi! Perché non si rapi, non si rapi! E allora sì! Ah, bella setta! Ah, bella setta! Che avete detto? Niente! Ah, perché io? Ce l'hai chiamato avuto! Ah, ah! Ah, bella setta! Ah, via la pera! Ah, bella setta! Ecco la pera! E adesso la faccio bevoria senza toccare l'acqua! Ma damicella, il fulanto! Ecco qua! Adesso non faccio altro che prendere questi fulanti e coprire questi due bicchieri! Primo bicchieri coperto, secondo bicchieri coperto! I signori possono contabolare i loro rilorci! In meno di un secondo! La nostra è la da finire del bicchiere dell'acqua e l'acqua è la da finire un cuore pal signore che teneva setta! Ehi! Ehi! Potete già? E tutti! Avete ancora seta? No, no! Non tenete più seta? No, no, no! E dove me la sentite? Dove me la sentite? In corpo! Me la sento in corpo! Arrivo bene! Non siete voi! Mi ha fatto passare! Metta in corpo al signore! Tove ne detenude! No, no! 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 Grazie a tutti